Ben trovati, anzi bentornati a Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, in questo nostro incontro molto particolare, un po' riepilogativo di quello che è accaduto fino all'ultima seduta di luglio e che riprenderà già dalla metà di settembre. Il tema che abbiamo scelto è molto semplice, abbiamo chiesto ai consiglieri quali sono le priorità alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale. E quindi l'ultima seduta del Consiglio regionale si è tenuta martedì 23 e mercoledì 24 di luglio, dopo la pausa estiva, in questi giorni sono ripresi i lavori nel Palazzo del Pegaso, in ogni gruppo consigliare, nelle commissioni, in vista proprio della prossima seduta d'aula fissata per il 10 e l'11 settembre. Noi ovviamente, come facciamo di solito, continuiamo ad informarvi settimana dopo settimana all'interno di questo appuntamento, ma per riprendere, diciamo così, un po' le fila e prepararci a quelle anche che saranno le tematiche che verranno affrontate dai consiglieri e già dalla prossima seduta l'abbiamo chiesto proprio direttamente a loro, l'abbiamo chiesto al Presidente, al Capo di Gruppo, come ormai è nostra consuetudine. Ascoltiamo quindi, ascolteremo tra poco i consiglieri, ricordandovi però che le dichiarazioni sono state registrate a fine luglio, proprio a margine dell'ultima seduta del Consiglio regionale. Ecco, quindi quali sono le priorità per appunto i prossimi consigli regionali che verranno dibattute nelle commissioni e poi in Consiglio. Ci stiamo avviando alla fine della legislatura, il programma di mandato del Presidente Gianni in larga parte lo abbiamo portato a compimento. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Una è il piano dell'economia circolare e il tempo dell'approvazione, ci sarà l'ultimo confronto in commissione e poi prima della fine dell'anno verrà approvato. E poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere il cerchio politico su questo. Dico che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di decidere perché io che sono un pendolare di quella strada so la fatica che si fa. Certo, ragioniamo di tutto, ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio, quello che ho detto al Presidente Gianni lo ridico qui. Se pedaggio selettivo deve essere per i camion, per chi lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenta. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato ma che alla ripresa dovranno approdare in aula perché il piano dei rifiuti deve essere approvato dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale. È stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione meritano la massima attenzione perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. Accanto a questo avremo altri argomenti come la modifica della legge 40 a seguito degli Stati Generali della Salute. Abbiamo dato delle indicazioni precise sulla quale la Giunta ha lavorato e a breve arriveranno anch'esse all'attenzione del Consiglio. E poi avremo tutta una serie di temi generali, anche di carattere politico, sulla quale dovremo continuare a lavorare e ad insistere come quella del finanziamento per quanto riguarda la sanità pubblica. Ora c'è stato il riconoscimento del Pebec, che questo rischia anche di creare delle problematiche per esempio alle piccole aziende. Il Governo, vista la sentenza che è stata emessa, se ne deve occupare perché le regioni hanno diritto ad avere quelle risorse, probabilmente le aziende vanno tutelate rispetto alle risorse che dovranno versare. il tema della sicurezza sul lavoro. Credo quindi che ci sia veramente nell'ultimo anno di legislatura tanto impegno da mettere ancora a sostegno e con attenzione nei confronti dei nostri territori, ad iniziare quelli più marginali, le cosiddette aree interne, continuando a far vedere una forte presenza, una forte azione della Regione, soprattutto per quanto riguarda le fasce di popolazione e i territori che ne hanno più bisogno. A settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante, il DEFRE, ma soprattutto la dimostrazione, che è quello che stavamo dicendo a inizio anno, del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare. Si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti, quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collocamenti ferroviari, ma anche stradali, quindi una stagione interessante e importante e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attese, soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Sicuramente il tema della sanità informativa che è arrivata la scorsa settimana e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno, però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata da parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere ed esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi al tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta Cheo e quindi da tutto quello che è rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è rifiuto solido urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'Aula di Consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multiutility e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. L'ultimo tema è il tema lavoro. Abbiamo presentato una proposta di legge appunto che va nella direzione dell'aiuto e del sostentamento per tutti quei minori che purtroppo perdono un familiare sul lavoro che da circa due anni non vede la luce perché ci sono state una serie di difformità denunciate, non vere. Da parte del Partito Democratico siamo pronti a presentare la proposta di legge con la copertura finanziaria sperando che il tema lavoro, il tema sicurezza sul lavoro sia un tema centrale nel prossimo anno di legislatura. Continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la regione toscana, penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle del cazzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro il Lafipili a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025, pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto e l'ambiente che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi utility di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come fratelli dell'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre al centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativo al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito a rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service, ma fee for value. Quindi la medicina basata sul valore, perché io sono convinto che noi di centrodestra non è che faremmo meglio del centrosinistra agli stessi parametri, però noi abbiamo la forza di poter cambiare le cose. D'altra parte 50 anni di centrosinistra hanno portato a questi esiti, per cui vogliamo cambiare e per cambiare dobbiamo avere parametri diversi. Quindi una medicina dove i medici di medicina generale debbono andare nelle case di comunità a lavorare, ma in accordo con i sindacati medici, perché se non ci sono questi accordi, è inutile che si costruisca i muri, si prenda degli impegni e poi non funzionano. Una medicina basata sul valore, cioè fortificare la prevenzione affinché non si vada a spendere tantissimo in quella che è fortunatamente una vita che va sempre più a lungo, una vita che porta a problemi di cronicità più che di acuzie, e quindi una medicina che deve andare, è vero, a casa del paziente, ma una medicina che comunque sappia reagire a quelle che sono le varie situazioni contingenti che si possono creare. E questo, come dicevamo all'inizio del nostro appuntamento, è stato un po' un modo per unire, con un filo immaginario, l'ultima seduta all'aula, quella del 22 e del 23 luglio, con la prossima, quella di martedì 10 e mercoledì 11 settembre, che ovviamente dalla prossima settimana inizieremo a raccontarvi anche noi. Auguriamo quindi un buon lavoro ai consiglieri regionali, agli uffici stampa, e soprattutto a voi gentili amici telespettatori, c'è il nostro più sincero ringraziamento per seguirci, come sempre, con attenzione e simpatia. Pertanto, fra sette giorni ci ritroveremo qui, tutti insieme, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.